L'associazione si chiama Memory Caffè, a Burano funziona da tre anni, con una presenza media di 15-16 persone e siamo in 9-10 volontari. Il programma lo facciamo nelle giornate di lunedì, martedì e venerdì, adesso è un periodo sospeso per il problema e là c'è una psicologa, ci sono delle signorine che aiutano nel disegno, nel far disegno, nel parlare, nel commentare che giorno è, l'ora, il giorno, la sua vita, quanti figli hanno, che famiglia hanno e pertanto si vede che migliora molto su questo. Anzi, mi stanno chiedendo adesso perché, quando iniziamo presto, perché sentono il bisogno. Adesso in questo periodo vengono consegnate delle schede nelle abitazioni, disegnano, scrivono e vengono corrette le riviste. Grazie. 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 Grazie.